La comunità di San Perniceto, in occasione del quinto centenario della canonizzazione di San Francesco da Paola, ha accolto nella piazza principale del paese la sagra reliquia del fazzoletto del Santo, che da sempre viene custodita all'interno del santuario di Milazzo. Il reliquario in argento è stato accompagnato dai fedeli in processione fino alla chiesa di San Francesco, dove si è tenuta la santa messa presieduta dal rettore del santuario di Milazzo il reverendo padre Federico Rubino, e concelebrata dal parroco di San Perniceto Monsignor Francesco De Domenico e da padre Alessandro Sframeli. Le manifestazioni in occasione del quinto centenario sono curate dalle comunità parrocchiali di San Perniceto e di Milazzo, in sinergia con l'esperto agli eventi Peppe Maimone e l'assessore alla cultura Salvo Presti. A conclusione della liturgia, padre Francesco ha annunciato che il 18 maggio si terrà la processione del simulacro di San Francesco che percorrerà le vie principali del paese. La reliquia che al suo interno custodisce il fazzoletto del santo resterà invece a San Perniceto fino a martedì. Gli eventi religiose e culturali proseguiranno nel corso delle prossime settimane e sino al 4 maggio 2020. Il paese di San Perniceto, dove è presente anche la fraternità del terzo ordine dei minimi, è fortemente legato al santo da Paola. Un sentimento religioso che nasce anche grazie al miracolo che San Francesco realizzò nel piccolo borgo collinare, con la creazione di una piccola fonte di acqua Paola che il santo fece sgorgare per ringraziare i sanpietresi che avevano donato le travi in legno per realizzare il santuario di Milazzo. C'è quindi tanta gioia e partecipazione per gli eventi nitinere.